Laura 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 che male fa questa mediocrità guarda e sorriso, già fanno principi magari l'occhio si non so poi per un vecchio numero, gli avviene mappiglia se parlano in dei bar che stisciano dovevo bus, che va leggeri ma paro a New York che sarà cacchio piglio il tuo cuore ma io voglio a te questa è una scusa in mezzo all'altra se non ci stai ma mangociata quando mi stringo forte forte quando mi unaccia fa male questa deriva cultura là che poi ci porta a chi non dà a tutta m'angarra siu mare io vierne a rinchi stella che scena in accella sta notte pulis se vede va fuia chi cullata ma sport che te chiara la mora care e miracale devozione e perdone rivoluzione che stai per me che meraviglia che poesia chitarra e voce Tommaso Primo qui a Mattina Live per cantarci questo suo brano incantevole titolato Cavalleggeri e New York nella testa di Laura un singolo estratto dal suo terzo album titolato Favola Nera e tra l'altro questo è uno dei brani più apprezzati dal cantatore napoletano che sarà protagonista il prossimo 3 dicembre al teatro Trianon Viviani con uno spettacolo imperdibile si è accomodato complimenti Tommaso grazie mille una poesia dolce dolce incantevole davvero bello questo brano è una canzone che come dire rappresenta un po' quello che è l'album non un concept album di nuove storie che sono ispirate provengono dal ventre anzi dal basso ventre della città partenopea e Cavalleggeri si è una canzone dolce che parla di una ragazza di periferia che guarda e sente il mare dal quarto piano della sua palazzina popolare e vede che però c'è un altro oceano che la divide dalle onde che è quello di cemento dell'Exit al Cedar che purtroppo da decenni è lì e ho voluto mettere tutto un contesto sociale di periferia è vero perché Cavalleggeri è uno storico quartiere di Napoli molto popolare forse poco conosciuto per chi non è della città ma furiero di ispirazioni le stesse ispirazioni che in realtà coinvolgono Laura assolutamente sì vive questa vita fra è figlia di questa generazione tra i locali tra le discoteche tra anche una sorta di crisi di valori ma non perché non ci siano i valori ma purtroppo perché i ragazzi non ci credono più e l'Ital Seeder tutto ciò che la circonda è un po' l'emblema di questo suo arrendersi no? i decenni di quelle pietre che rimangono lì e quindi provocano all'interno dello spirito dei ragazzi come dire una mancanza di speranza che è anche un po' una buona dose anche di melanconia Paola Nera tra l'altro è il tuo ultimo progetto discografico che tra l'altro ha riscosso grande successo e che per l'appunto mette in evidenza la parte interiore no? questo magma che l'anima di partenopeia un po' ha conserva dentro di sé e fa parte dell'essere umano ma al contempo c'è anche la positività la voglia del riscatto attraverso quello che è il sottofondo umano che cos'è questo sottofondo umano di cui ecco anche un po' spesso parli sottofondo di Napoli è un'umanità nascosta esatto un'umanità nascosta vedi ci sono anche tante provocazioni all'interno del disco tipo c'è un brano con Peppe Barra perché poi è un disco pieno di ospiti che parla proprio si chiama Vico Pace e dice a un certo punto su le scende la questura c'è questo vicolo dove purtroppo è stato reso celebre negli anni passati è passato alla cronaca per una serie di eventi spiacevoli e vedi c'è anche questa sorta di indifferenza da parte delle istituzioni che vedono guardano questa città però rimane sempre la stessa dai tempi di Cursio Malaparte e di Striano che ce la raccontava nel resto di niente purtroppo è una Napoli sempre così tra oscurità e luce in realtà è un gioco bifronte diciamo sempre però che Napoli è caratterizzata proprio da questa figura un po' mitologica luce tenebre solarità oscurità intanto è un progetto che sicuramente ti ha portato a conoscere nel profondo il nostro capologo partenopeo la città insieme ad essa i tanti personaggi che la animano attraverso questo sottofondo di Napoli che per l'appunto come ricordavi tu sono poi i protagonisti anche di questo tuo disco la favola nera hai nominato il maestro Peppe Barra ma tanti altri che hanno restituito sicuramente colore e corpo al racconto musicale ci sono tanti amici c'è Massimo Iomene del 99 post il ludopatico d'amore ci sono i foia con cui ho scritto un brano c'è la maschera che è un altro gruppo folk napoletano che come dire i fratelli con Roberto Colella c'è il maestro Peppe Barra c'è la bravissima attrice Denise Capezza che è sempre protagonista di ruoli femminili importanti nelle serie italiane anche ruoli che mi colpivano perché sono sempre queste donne caratteristi questo vuol dire che trovano la forza capito di che diventano esempio perché riescono hanno quella voglia di potersi riscattare quella voglia e anche di ribellarsi alle realtà in cui sono nato e poi c'è un amico di Arezzo che si chiama il Cile che ha vinto premio della critica a Sanremo ha scritto la famosissima Maria Salvador è autore di Loredana Bertè e abbiamo scritto insieme un brano che si chiama Forcella Dream ed è stato molto molto bello portarlo nel microcosmo poi ci sono dei piccoli esperimenti sociali per esempio in Maronna Nera ci sono le ragazze di Viargine che sono davvero delle ragazze sfuggite alla tratta o meglio vittima della tratta delle schiave e ho voluto che queste voci vere del ventre cantassero all'interno nel disco è stata una grande esperienza per me e spero anche per loro grido di dolore voglia di poesia di fare poesia attraverso la musica tra l'altro il nostro regista Salvatore Mondo mostra appunto la copertina dell'album Pavola Nera che è la lucandina di Danilo Pergamo questo è del concerto Danilo Pergamo il concerto che per l'appunto ricordiamo ti vedrà la protagonista è prossimo 3 dicembre al teatro Trianon di Napoli di Napoli un concerto lo ricordavamo prima imperdibile Tommaso che cosa vuol dire perché poi c'è un altro aspetto perché purtroppo la pandemia ha portato gli artisti per due anni lontano dalle proprie esibizioni dal vivo che cosa vuol dire ritornare dal vivo a fare musica che cosa ti aspetti dal pubblico quanta voglia hai di regalare emozioni allora la cosa bellissima è che quasi tutti i biglietti sono andati pieni una notte sold out sì quindi mancano 40 biglietti spero che in queste ore due settimane secondo me usciamo da qui eh sì sì assolutamente sì però è bello perché con questa pandemia l'arte come sempre in questo paese lo spettacolo la musica sono state rilegate a ultima ruota del carro piano piano stanno ritornando e soprattutto c'è un'altra battaglia che come dire sposo con questo evento che spesso sento dire a Napoli non ci sono i luoghi per fare la musica ci sono sono i teatri sono abbandonati sono chiusi non sono vissuti dai giovani e ho voluto fare un evento lì perché vorrei che di nuovo la gente andasse a teatro ritornare in teatro applaudire dal vivo avviare quello scambio osmotico di energie di vibrazioni energetiche un messaggio importante non a caso scegli il teatro triano di Napoli che è sicuramente il teatro del popolo ed è il teatro che in questo caso rivesse un ruolo di grande significato sociale come stai ricordando assolutamente pensi che possa esserci possa ripartire veramente in grande il tuo è soldato però dico in linea generale come concetto dell'arte della cultura del fare cultura del fare arte teatro spettacolo io credo che ci sia una persona molto coraggiosa che è Marisa Laurito che ha la direzione artistica del teatro io le ripeto sempre questa cosa dico fare questo teatro è molto più di essere una semplice direttrice artistica ma vuol dire sposare quella parte della città che si schiera con la luce quindi sai in quei vicoli che spesso sono conosciuti per altro invece c'è quel posto che riunisce tanta tanta bellezza e fa conoscere la bellezza io credo che sia molto più di un teatro tra l'altro la sfumatura è veramente sottile perché ci ritroviamo nel quartiere e l'interno insomma di questo luogo che per appunto è carico di fragilità di oscurità ma un passettino poi ritroviamo il bellissimo percorso che è quello della luce quello che poi fa capo ai grandi visitatori e ai nostri turisti Tommaso pensi che questo sia il momento giusto per ritornare al teatro ma soprattutto cosa possiamo fare noi contributo della società civile per sostenere e supportare il teatro gli artisti i cantanti le maestranze in particolare perché poi le maestranze soprattutto sono state è stata quella categoria definita invisibile messa da parte nel periodo pandemico io ho voluto un miglietto molto popolare quindi 15 euro 20 euro io spero che anche gli altri artisti facciano così e cominciamo di nuovo a riscoprire questa cosa a venirci incontro l'economia non si ferma mai è una cosa che fa parte del mondo non si è fermata con con la pandemia quindi bisogna andarsi incontro e cercare di di sposare di riviverlo capire che è una cosa fondamentale la cultura l'arte la musica per questa città sei emozionato? sono sì un po' sì a volte lo vorrei nascondere sai perché dico no non so sto bene invece un pochino sì anche perché lo dicevamo a telecamere spenti tanti anni oramai che vivi di musica oramai la musica ti appartiene da quando eri piccino sono stato infortunato perché capito a 19 anni ho fatto il primo singolo le canzoni sono andate bene tra l'altro questa produzione è stata la prima volta ad ospitarmi in televisione tanto tempo fa sì l'emozione riesci a controllarla ma non svanisce mai del tutto e questa volta al trino non ti nascondo che ogni tanto ho un po' di ansia che mi respiro forte sei straordinario intanto abbiamo ascoltato Cavalleggiare New York nella testa di Laura terzo insomma brano estratto dal terzo album Favola Nera chitarra e voce questo abbiamo avuto modo vogliamo salutare anche Gianluigi Capasso alla chitarra e non c'è ma Peppe Spinelli che ha prodotto e arrangiato questo disco l'ha fatto in maniera molto minuziosa c'è lavorato con me da tanto tempo e poi c'è anche il videoclip vedo di Matteo Florio che dai da giaca alla fanpage fa sempre cose bellissime si è messo in gioco con questo video che ha vinto un sacco di premi sono contento per lui è da vedere assolutamente intanto Imperdibile e rinnoviamo l'appuntamento il prossimo 3 dicembre al teatro Triano Viviani lo spettacolo che vedrà per l'appunto protagonista un cantatore partenopeo di grandissima eccellenza Tommaso I favola nera in concerto prossimo progetto Tommaso ne hai perché secondo me la tua testa ha già tante note musicali tante 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 ma ci sono la cosa bella è tanti tanti concerti fino a febbraio questa cosa bella anche in Europa però sveleremo per poco complimentissimi grazie di cuore a te un bellissimo momento questo musicale grazie a Tommaso Primo per essere stato con noi e noi ci ritroviamo invece tra pochissimo perché proseguiremo a parlare di musica ma attraverso un altro aspetto restate con Mattina Live grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti